Non posso fare in silenzio davanti alla nuova proposta di legge che vuole prima vogliare internet. Tutti noi abbiamo una rete e che provociano? Chi della rete si deve sentire forte? La richiesta di certifica delle dichiarazioni di noi non può farciare da nessuna parte. E' una caratteristica, un po' che ho chiesto di dire che voi non sentite quello che vi ho detto. E quindi io chiedo ai nostri politici che prendano conto delle richieste di un'edizione della rete che lo facciano ad una direzione molto sismicata e compatibile con le tecnologie di internet. Grazie. Grazie a tutti.